Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto e inevitabile della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, io sono ormai mesi che non faccio altro che parlare di questo libro, ovvero sia la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943, il preziosissimo e straordinario regalo che mi ha fatto l'amico Tony De Mario con grandissima, grandissima e straordinaria generosità. Allora, cari signori, si parlava, ho parlato più volte, leggendo le pagine di questo libro, a proposito del famoso duopolio tra Fiat e Ansaldo e della farraginosità, chiamiamola così, della struttura economica dell'industria corporativa, del corporativismo fascista. Ce n'è un esempio, ce ne viene dalle pagine di Ceva e Kurami, ce ne viene un esempio, oseri dire, clamoroso, perché parliamo di quello che accadde, allora, parliamo di quello che accadde a proposito della riorganizzazione fatta dall'Iri delle nostre industrie pesanti. Allora, vediamo un po', si parla qui del distacco dell'Ansaldo dalla sua acciaieria, conseguenze sulla produzione militare. Allora, sentite un po' qua. 22 luglio 1935, il grand'ufficiale comandante onorevole Mario Baringhi, cioè, non so perché mi viene in mente Fantozzi, il dottor Inge, Lupman, Filipput, Gramma Scalzondi, Gran Croce, Visconte Cobram, cioè, vabbè, insomma, scusate, mi viene inevitabile pensare a certe cose leggendo certi titoli. Dicevo, Baringhi, presidente dell'Ansaldo subentrato a Cavallero nel 1933, rassegnava le dimissioni ad Alberto Beneduce, presidente dell'Iri. Dopo aver sentito da vostre eccellenze il nuovo indirizzo e programma tecnico economico che l'eccellenza vostra nella sua qualità di presidente dell'Iri intende di seguire nella sistemazione della società Ansaldo e aziende consociate, due giorni dopo si dimetteva anche l'ammiraglio Giuseppe Sirianni, presidente dell'acciaieria dell'Ansaldo, la SIAC. Che cosa era accaduto? Allora, ultimo anello di una catena casuale complessa era il distacco dell'Ansaldo dall'acciaieria di Cornigliano e l'incorporazione di quest'ultima da parte delle acciaierie di Aosta Cogne che aveva dato luogo alla società italiana Acciaierie Cornigliano Cogne o SIAC. L'operazione era stata condotta contro il fermissimo parere del generale Baistrocchi, capo di stato maggiore dell'esercito e sottosegretario alla guerra con funzioni di ministro. Perché sapete bene che ministro della guerra, nonché ministro della marina e ministro dell'aeronautica, indovinate un po' chi era? L'Avai! Il Cavalier 56, lui il Marcellone di Predappio. Ma vabbè, lasciamo stare. Allora, Baistrocchi, in un promemoria del 13 luglio 1935, indirizzato al ministro delle finanze Paolo Taon di Revell, così fra l'altro scriveva Se fu errore grave la fusione delle Acciaierie di Aosta e di Cornigliano costituì più grave danno il separare la Cornigliano dall'Ansaldo. Non è possibile concepire oggi, e nessun tecnico lo concepisce in buona fede, una grande industria di armi e munizioni che non abbia nella sua organizzazione e come primo tempo del suo ciclo produttivo una acciaieria che possa fabbricare e trattare i greggi delicati che le altre unità delle aziende devono poter trasformare in prodotto finito. La giustezza di tale principio basilare tecnico è convalidata dalla constatazione assoluta che tutte le fabbriche di cannoni in tutto il mondo, siano aziende grandi o modeste, hanno un'acciaieria e una forgia propria. Che l'amministrazione militare fosse appieno convinta di tanta necessità e dimostrato dal fatto che essa, di fronte alla situazione irrazionale e strana creatasi con la formazione della SIAC, espresse in tutti i modi e ripetutamente la necessità di ridare vita magari ad un organismo decrepito e cadente quale la vecchia acciaieria ex-Armstrong pur di consentire allo stabilimento meccanico-artiglieria di Pozzuoli quella completezza di ciclo che era stata spezzata staccandola Cornigliano dall'ansaldo. Se il gestire un'industria meccanica di armi e munizioni senza un'acciaieria propria è sempre un'incongruenza tecnologica assoluta la normalità diventa più marcata quando l'industria alla quale si accenna è una di quelle fondamentali per lo Stato essenziale all'efficienza bellica del Paese. Nessuno può negare che la costruzione delle armi è in continuo perfezionamento che nei venti ultimi anni si è progredito assai più che non tutto il secolo precedente e che molto potrà e dovrà ancora essere fatto. Per la Cornigliano è indispensabile che sia riunita indissolubilmente all'organismo ansaldo in modo che l'una e l'altra sentano e assolvano la vera missione loro progredire e superarsi per perfezionare ogni giorno di più la tecnica delle nostre armi che non deve rimanere seconda a nessuno. Siamo sinceri il generale Baistrocchi non è che fosse una cima come dimostra la sua carriera ma punta il dito contro se vogliamo un clamoroso errore fatto dalle alte sfere del regime privando l'ansaldo della sua fonderia della sua acciaieria. Perché accade questo? Allora, io ho già puntato più volte il dito contro le pecche del corporativismo fascista contro le pecche dell'economia corporativa contro il fatto che il corporativismo fosse, insomma mettiamola così la dimostrazione che qua in Italia comandavano sempre i soliti e che l'industria pensava essenzialmente al suo profitto fregandosene dei desiderata del committente farraginosità, corruzione tanta corruzione ma questa non è certo una novità soprattutto in un paese come l'Italia siamo sicci allora ricordiamoci una cosa continuano Ceve e Kurami dopo le giuste lamentelle di Baistrocchi Ceve e Kurami ci parlano che proprio in quello stesso periodo di tempo varie industrie riconoscevano l'opportunità di creare o di rafforzare nel loro ambito il sistema verticale che era stato a suo tempo massima aspirazione dei Perrone i vecchi proprietari dell'ansaldo la Fiat rafforzava le unità siderurgiche del proprio gruppo e altrettanto faceva la Breda che Liri aveva in parte restituito ai privati cioè in pratica le principali industrie belliche italiane avevano un'acciaieria propria la principale industria bellica italiana cioè l'ansaldo questa acciaieria se la vedeva togliere insomma una genialata insomma allora dicevo la Fiat rafforzava le unità siderurgiche del proprio gruppo altrettanto faceva la Breda che Liri aveva in parte restituito ai privati le acciaierie Falc avevano addirittura acquisito gli stabilimenti della Franco Tosi e l'acciaieria e tubifici di Brescia anche questi ultimi in parte riprivatizzati da Liri lo stesso ministero della guerra pensava di riaprire le vecchie acciaierie ex Armstrong per asservirle alla produzione dello stabilimento d'artiglieria di Pozzuoli e qui adesso vengono fuori le dolenti note e i veri perché della separazione dell'ansaldo dalla sua indispensabile acciaieria ci si può chiedere perché con l'ansaldo e la propria acciaieria si sia proceduto in senso diametralmente opposto una risposta potrebbe essere la maggiore appetibilità dell'acciaieria isolata in vista di una sua collocazione presso il capitale privato ovvero sia togliamo l'acciaieria l'acciaieria all'ansaldo pubblica per darla al capitale privato e di quale capitale privato stiamo parlando? bene e si può supporre continuano Ceve e Kurami che fosse proprio la Fiat a desiderare di acquisire un'azienda siderurgica opportunamente dimensionata e risanata perché sto guardando la sciarpa dell'Inter? vabbè 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 scusate va bene allora dicevo dicevo la cosa non meraviglierebbe se pensiamo al successivo tentativo della Fiat 1941 di acquisire l'acciaieria di Cornigliano nel corso di vicende lontane dal nostro tema e che perciò sono qui appena accennate nello stesso senso converge il successivo e provato tentativo della Fiat di acquisire la Cogne nel 1942 ma a parte tutto questo non spiegherebbe al 100% l'incorporazione nel 1934 della ciaieria di Cornigliano nella Cogne durata poi meno di un anno ci addentreremo davvero nel campo delle supposizioni anche perché una volta notato che molto probabilmente la Fiat ebbe fin dall'inizio nel duopolio carristico con l'ansaldo un peso assai superiore al suo specifico apporto altre illazioni oltre che probabilmente inutili rischiano di perdersi nel quadro di estrema incertezza che caratterizza alcuni settori industriali del 34-35 in quel tempo ad esempio si parlò insistentemente di riprivatizzare nuovamente la stessa Terni e anche l'ILVA allora impregiudicato dunque il problema delle ragioni per cui l'acciaieria era stata scissa dal lansaldo e incorporata nella Cogne troviamo riflesse nei documenti molte circostanze di tale vicenda ed alcune sue conseguenze afferenti proprio i mezzi bellici oggetto del nostro studio la meccanizzazione del regio esercito i pasticci della Fiat pro domo sua insomma signori che vi devo dire allora allora dicevo tali conseguenze sembrano ragionevolmente addebitabili almeno in parte anche a fatti anteriori all'operazione questa come già detto doveva poi durare un anno solo per ciò che riguarda la fusione con la Cogne ma fu definitiva quanto al distacco giuridico dal lansaldo a all'origine di tutto sta probabilmente il terremoto dirigenziale scatenatosi nel 1933 nell'ambito sia del lansaldo sia della sua ciaieria allora riunite per il cosiddetto scandalo delle corazze mi avevano chiesto di parlarne e ne troviamo un accenno qui allora allora ricordiamo che le corazze destinate ad un incrociatore risultarono non conformi ai campioni approvati i cui sigilli erano stati falsificati ripeto ripeto ricordiamo che le corazze destinate ad un incrociatore risultarono non conformi ai campioni approvati i cui sigilli erano stati falsificati roba da chiodi oggettivamente cioè qui siamo di fronte veramente a cose a cose turche oggettivamente vabbè vabbè si ebbero a più riprese licenziamenti di dirigenti e impiegati talvolta semplici spostamenti culminati poi quasi sempre in licenziamenti corsero sospetti sullo stesso presidente della società ovvero si ebbero il generale ugo cavallero oibo oibo cavallero 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 forse l'unico uomo al mondo a essere più ladro di badoglio ma vabbè diciamoci la verità già sottosegretario alla guerra dal 4 maggio 1925 al 24 novembre 1928 un'inchiesta affidata al ministero della marina non accertò prove a carico di cavallero che peraltro lasciava l'ansaldo ma diciamoci la verità fracà in cesemoccica come dicono dalle parti d'Ancona cane non mangia cane vabbè 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 continuiamo e provocò invece l'invio al confino di uno dei dirigenti che cavallero stesso aveva precedentemente licenziato nei giorni in cui la vicenda era affiorata allora i licenziamenti riguardavano anche personaggi di primo piano come ad esempio il direttore dello stabilimento di artiglieria il direttore delle acciaierie e fonderie di acciaio quello poi confinato nonché vari tecnici appunto delle acciaierie era sempre nel 1933 subentrato a cavallero il nuovo presidente comandante onorevole Mario Barenghi il barone duca conte serbelloni mazzanti vende al mare l'abbiamo lasciato un'altra parte vabbè lasciamo stare allora che aveva il compito di liquidare il passato per riportare l'ambiente alla normalità come scriverà il suo successore Agostino Rocca del luglio 1936 l'esodo di personale qualificato dirigenziale e tecnico sarebbe stato forse meno rilevante se l'ansaldo nel 1927 oltre un anno prima della gestione cavallero non avesse avviato rapporti di esclusiva collaborazione con la Crup proprio nel campo delle corazze e dei proiettili perforanti la circostanza sulla quale non sembra finora essersi soffermata l'attenzione degli studiosi risulta ad esempio da un promemoria del 24 novembre 32 della Terni al capo del governo Mussolini l'uomo che sapeva tutto allora alle probabili conseguenze di un primo rarefarsi del personale dirigenziale e tecnico che applicava da anni i procedimenti Crup oggi si parlerebbe di know-how di tecnica bisogna poi sommare il trauma della fusione con la Cogn infatti nella nuova SIAC società italiana acciaierie Cornigliano Cogn volendosi porre mano ad un impotente programma di rinnovamento degli impianti furono innanzitutto rivoluzionati gli staff venne costituita una nuova direzione in pianti affidata a quadri provenienti da svariate ditte come fra l'altro Falc Terni la Ceretti di Villa Dossola alla nuova direzione fu affiancato un gruppo di tecnici ingegneri capitecnici periti disegnatori eccetera formato in parte già della Cornigliano e in parte chiamato dall'esterno oltre che dalla stessa Cogn operazioni del genere anche quando anche per avventura riuscite nel lungo termine sollevano inevitabilmente all'inizio difficoltà manumori e contrasti con riflessi poco favorevoli sul lavoro aziendale allora in pratica l'ansaldo aveva iniziato a studiare a copiare a usare le procedure croup di costruzione e saldatura dell'acciaio ma che cosa succede? l'acciaieria dell'ansaldo viene scorporata dall'ansaldo cioè l'acciaieria interna dell'ansaldo viene scorporata dall'ansaldo assorbita dalla cogne e che cosa succede? succede che tutte le competenze relative ai processi croup di fonderia e di saldatura vengono allegramente e simpaticamente buttate nello sciacone del cesso e e che cosa succede? succede che i vecchi il vecchio staff tecnico dell'ansaldo delle acciaierie dell'ansaldo viene smembrato arrivano altri personaggi da fuori o dai nuovi proprietari e che cosa succede? succede un gran casino si perdono le competenze relative alle corazzature si perdono le competenze relative soprattutto alla saldatura ecco perché noi siamo andati in guerra con i carri M chiodati con le corazzature chiodate eh 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 la diplomazia diceva Ekurami è oserei dire molto molto chiara però si evince chiaramente che sotto qualcuno ci ha mangiato e ci ha mangiato pure tanto allora tutte queste traversie questi problemi queste diatribe interne alla nuova società e basta menzionare di tutto questo l'allontanamento dell'ingegner Bosio nuovo direttore dello stabilimento acciaierie e fonderie d'acciaio il precedente era stato licenziato al tempo dello scandalo corazze nonché l'analoga sorte toccata al vice direttore ingegner Alma già non meraviglia di certo che simile vicende abbiano avuto conseguenze negative almeno in un primo tempo e per qualche aspetto anche più a lungo ciò fu subito rilevato piuttosto autorevolmente lo scrisse a tutte le lettere il generale Baestrocchi che non era parte in causa ricordiamocelo nel promemoria di cui abbiamo citato i passi precedenti ora in coscienza la gestione tecnica della SIAC ha mancato tale compito si parla dei miglioramenti dell'industria bellica non ha saputo trovare uomini adatti non è riuscita ad assicurarsi la collaborazione di veri esperti si è appoggiata a dirigenti inesperienti degli speciali delicati manufatti e la conseguenza ne è stata che ad essere ottimisti non si è progredito mentre altrove non si sostava affatto innovazione ricerca progresso cose che l'industria italiana non ha mai saputo dove stavano di casa il corporativismo poi dicono che sono cattivo continuiamo un attimo allora i risultati della gestione SIAC ad Aosta e Cornigliano sono stati indubbiamente poco felici tutti lo ripetono tutti ne sono convinti i fatti lo dimostrano la qualità del prodotto non si è avvantaggiata gli scarti sono cresciuti i prezzi si sono elevati gli impegni di consegna non sono stati rispettati perché si è voluto spesso dar preferenza ad un lavoro ordinario allora sentite cosa dice Baistrocchi stappatevi le orecchie signori perché questo è uno dei passi che più di ogni altro credo illustri il fallimento clamoroso totale e senza appello dell'economia corporativa ok sentite un po' dicevo i risultati della gestione SIAC ad Aosta e Cornigliano sono stati indubbiamente poco felici ripeto ancora tutti lo ripetono tutti ne sono convinti i fatti lo dimostrano la qualità del prodotto non si è avvantaggiata gli scarti sono cresciuti i prezzi si sono elevati gli impegni di consegna non sono stati rispettati perché e qui salta fuori il guaio grosso perché si è voluto spesso dar preferenza ad un lavoro ordinario commercialmente più renumerativo posponendo il lavoro di qualità perché meno redditizio presentante più alea richiedente una meticolosa e cosciente applicazione in pratica si faceva le cose alla cazzo di cane perché costavano di meno e garantivano migliori profitti corporativismo signori corporativismo corporativismo vabbè poi dicono che sono cattivi a conclusioni analoghe più dettagliatamente esposte perveniva chi era parte in causa cioè il presidente dell'ansaldo onorevole barenghi questi il 5 luglio del 35 indirizzandosi al generale dall'olio presidente del comitato mobilitazione civile scriveva fra l'altro i nuovi dirigenti delle acciaierie senza alcuna esperienza in acciai di qualità senza esperienza in corazze in cannoni eccetera ogni giorno sono sollecitati a nuove modifiche la cui leggerezza impressiona e tiene i tecnici responsabili delle fabbricazioni in un continuo allarme si voleva fabbricare le corazze cementate dell'alittorio caricando il rottame di cromo nickel esistente sui piazzali e si desistette da questo colossale errore solamente dopo energiche reazioni dei tecnici avete capito quello che scrivono ceva e curami quello riportato da ceva e curami cioè quello che scrive il presidente dell'ansaldo cioè praticamente i dirigenti i nuovi dirigenti delle acciaierie di questa cosa delle ex acciaierie ansaldo incorporate nella cogne ok praticamente si voleva fabbricare le corazze cementate del littorio caricando il rottame di cromo nickel esistente sui piazzali e si desistette da questo colossale errore solamente dopo energiche reazioni dei tecnici cioè è spaventosa questa cosa ma vi rendete conto se si pensa che il cantiere navale ansaldo attende la corazzatura del littorio e che non è costruito ancora uno dei forni necessari per la fabbricazione di dette corazze si avrà idea della leggerezza con la quale i nuovi dirigenti conducono le cose allora lamentava barenghi inoltre cioè già come se non fosse sufficientemente agghiacciante questo memorandum di barenghi si lamentava anche che si erano messi in discussione processi di fabbricazione che costarono milioni e che sono il frutto del lavoro di anni e in particolare quanto ci è stato insegnato da Krupp col risultato che le lamiere ad elevata resistenza per lo scafo della littoria della littorio si sono dovute fabbricare quattro volte e che tenetevi forte la lavorazione delle lamiere scudo per i cv 33 eseguita bene nel 1934 nel 1935 ha dato risultato inferiore tanto da costringere a modificare il metodo di costruzione dei carri cioè in pratica signori competenze capacità sistemi che erano insomma ricerche su sistemi produttivi durate anni e costate milioni di lire buttate nel cesso alla cazzo di cane perché faceva comodo a qualcuno scorporare l'acciaieria dell'ansaldo dall'ansaldo stessa cedendola ad un'altra industria che guarda caso che guarda caso era nelle mire di mamma fiat scusate scusate ma io quando nomino la fiat devo come si suol dire abbiate pazienza cioè è più forte di me scusate insomma insomma ceva ceva e curami con molta chiarezza cioè spiegano chiaramente il disastro combinato all'ansaldo dall'iri ovvero sia privare l'ansaldo della sua fonderia incorporare la fonderia dell'ansaldo con la cogne e combinare un disastro perché tutti gli studi sulle saldature degli acciai sulle corazzature eccetera 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 tutto buttato malamente nel cesso tirando la catena perché perché qualcuno aveva voglia di farsi un'acciaieria propria spendendo poco siamo sotto Pasqua siamo sotto Pasqua l'agnello è tradizione vabbè non mi fate essere cattivo insomma cari signori l'analisi diceva e curami e i documenti che riportano parlano estremamente chiaro la cialtroneria con cui fu affrontata la ristrutturazione dell'ansaldo è a dir poco criminale insomma il generale Baistrocchi le parole di Baistrocchi cioè Baistrocchi non era una cima sicuramente ma qui aveva ragione da vendere cioè separare la più importante industria bellica italiana dalla sua acciaieria mentre nel mondo qualunque qualunque fabbrica d'armi o di armamenti aveva la propria acciaieria per risparmiare per fare prima per avere praticamente in casa il materiale da lavorare tutto ripeto e sottolineo tutto buttato nel cesso per un'alzata di ingegno che doveva favorire una squadra che a noi la proprietà la ditta che è proprietaria tra le altre cose di una certa squadra scolorita che a noi tifosi della bene amata sta decisamente poco simpatica va bene signori sono un idiota a fare questi esempi qui ma lo so è più forte di me non posso far altro che pensare di questo cioè signori economia corporativa lo stato imprenditore lo stato che come dire piegava l'industria privata agli interessi superiori della nazione il fallimento lo spaventoso clamoroso e grottesco fallimento dell'economia corporativa un altro di tanti esempi tutto qua beh allora si è chiaro una cosa allora io non sono un economista uno di economia e commercio ne so decisamente poco di finanza ne so ancora meno di processi industriali ne so poco o nulla ho solo una cosa i miei libri l'abitudine a leggere i libri l'abitudine a ragionare su quello che leggo sui libri ok e in base alle mie limitatissime conoscenze e in base come dire anche ai miei ragionamenti la catastrofe la catastrofe della produzione industriale bellica italiana è tutta in questo episodio magistralmente descritto da Ceva e Curami in questa pubblicazione che come sempre vi invito caldamente a procurarvi e a rileggere con estrema attenzione quindi cari signori come sempre io attendo le vostre considerazioni i vostri commenti fatemi sapere se ho detto cavolate fatemi sapere se ne sapete qualche cosa più di me sono curioso di sapere sono qui anche per imparare aspetto come sempre ripeto commenti e considerazioni da parte vostra e di nuovo un'altra volta ancora arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao